Su richiesta del prefetto di Teramo Graziella Patrizzi, il presidente di Viabilità Italia Giovanni Busacca ha indetto questa mattina nella sede della prefettura di Teramo una riunione tecnico-operativa per individuare possibili soluzioni per reinstradare il traffico pesante in transito lungo l'A14 sia da nord che da sud. All'incontro hanno partecipato, con i funzionari prefettizi delle province di Asculi Piceno, Fermo, Macerata, Ancona, Pescara, L'Aquila, Chieti e Foggia, i vertici della Polizia Stradale, dell'ANAS e i referenti delle associazioni dell'autotrasporto. L'impossibilità per i mezzi pesanti di percorrere il viadotto del Cerrano rappresenta una vera catastrofe economica nazionale, equivalente al crollo del ponte Morandi. Per questo è necessario trovare urgentemente itinerari alternativi di lunga e media percorrenza. Siamo qui proprio per lavorare sulle lunghe e medie percorrenze, per trovare dei percorsi alternativi, per alleggerire. Quindi noi daremo delle indicazioni. È chiaro che non possiamo imporre nulla, ma possiamo dare delle indicazioni e metteremo in campo tutte le possibilità aiutate da società autostrade, tutte le possibilità e i canali informativi per informare su questi percorsi alternativi. Tra le ipotesi al vaglio del vertice tecnico sulla lunga percorrenza, si è orientati al dirottamento dei TIR una volta arrivati a Bologna verso la 1, l'autostrada del Sole, mentre localmente si chiede alla provincia di Teramo di fornire un reticolo di strade provinciali percorribili. Poi io ho chiesto anche al presidente della provincia di fare un tavolo con i sindaci per trovare sul traffico residuale di TIR dei percorsi alternativi sulle brevi percorrenze. Quindi lavoreremo un po' a 360 gradi. Spero che troveremo delle soluzioni adeguate. Siamo tutti quanti proprio per fare fronte comune e per cercare, quantomeno in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria, di risolvere e di alleggerire la problematica dei comuni costieri in primo luogo di Silvi. Ma proprio mentre si sta considerando il passaggio dei mezzi pesanti non più sulla Statale 16 ma sulle strade provinciali di Teramo, ecco arrivare la notizia della rottura del tratto della SP28 che collega l'uscita della 14 con la Statale 16.